Eccomi qua, visto? Che sono ancora in piedi? Dopo tutte le calunnie, diffamazioni, quello e quell'altro. Eh sì, che fa? Questo era il destino, il mio destino. Doveva essere questo. Anche Giulia ai tempi aveva tradito a Gesù, il famoso bacio di Giulia. Però Gesù che cosa ha fatto? Ha perdonato. Io? No! No, no, a me va a vita confuso per Gesù Cristo, va bene che c'è ancora la barba, che mi prendete per il culo e che c'è ancora la barba? Ma non mi confondete con Gesù Cristo bucato nella croce? No, c'è tantissima differenza, amore mio. Sono buona come lui, ma no, perdono più. No, non sto più a 60 gradi. No, e ne ho. Ecco sì, mi dispiace. Comunque, guarda che cosa mi sono fatta io stasera, il mio stomaco. Guarda. Ecco, questa è la cena mia di stasera. Hai capito? Guarda, un cotechino scrausa. Questa è la cena mia di stasera. Perché io l'ultima cosa che voglio fare oggi è cucinare. E ci sta contenta. Il convento questo passa stasera. E ci sta contenta. Cosa, un. Cosa, un.